Gesù Cristo porta vita, guardi bisogna avere paura del peccato, non del coronavirus, guardi il nostro problema non è il coronavirus, il nostro problema è il peccato, è il peccato che porta il coronavirus, prendete nell'angelo cari fratelli di Bologna, amici, leggendo la scrittura, il fine sta arrivando, il fine del mondo sta arrivando, dove andrai quando morirai? Gesù Cristo ti ama, il problema è questo, il peccato, il problema è la fornicazione, il problema è adulterio, il problema è il peccato, bisogna leggere la scrittura, bisogna credere nel Vangelo, perché questo salva, Gesù Cristo è la via, questa è la verità, questo porta libertà, Gesù Cristo, bisogna leggere la Bibbia, non avere paura, c'è chi adesso sta molto attento, lava mani, è proprio allontanare la gente, guardi la paura, guardi c'è scritto nella Bibbia, in Apocalisse, in Matteo 24, che succederanno tante cose alla fine del mondo, perché Gesù Cristo sta tornando, è proprio vicino, io sono contento, non ho paura del virus, perché l'ho visto nella Bibbia, non ho paura di queste malattie che abbiamo oggi, allora la follia è che nessuno può toccare un altro, lava mani, sta lontano, comunque non devi fumare, perché se fumi arriva coronavirus, bisogna cercare la faccia di Dio, questo, il problema è il peccato, non la malattia, guardi non avere paura del morte, ma il morte spirituale, bisogna preoccuparsi su questo, sulla morte spirituale, la domanda che vi faccio oggi è dove andrai quando morirai, c'è la vita eterna in questo, se cerchi Dio lo trovi, guardi, idolateria è un problema, Romani capitolo 6, versetto 23, il salario del peccato è la morte, ma la vita eterna si trova in Gesù Cristo, bisogna abbandonare il male, il maligno, bisogna abbandonare il peccato, questa è la verità, amici, vi amo con tutto il mio cuore e vi presento la parola dell'Eterno, vi presento Cristo, vi presento salvezza, perché Gesù ti può salvare dalla fornicazione, Gesù ti può salvare dalla d'interio, Gesù ti può salvare dalla menzogne, Gesù qui sto, ti può liberare, questa è la verità, non coronavirus, c'è il virus e tutti hanno voglia, paura di coronavirus, dovete avere paura del peccato, peccato, non ho paura di morire, perché andrò a rincontrare il mio Signore che vi ha salvato, Gesù Cristo, abbiamo bisogno di Lui, Gesù che porta salvezza, Gesù Cristo che porta un cambiamento, ognuno deve esaminare la sua vita, come sei messo, sei nella fornicazione, sei nell'adulterio, sei un afferminatore, sei un bugiardo, sei un ladro, bisogna esaminare il cuore, come sei messo, metti mascherina, hai paura del coronavirus, bisogna avere paura del peccato, non è una sorpresa che ci sarà il coronavirus, perché c'è peccato, troppo peccato nel mondo, Gesù Cristo dormi, abbiamo bisogno di te, alleluia, e questo abbiamo bisogno, la salvezza, di questo, è arrivata la salvezza e io mi inginocchio davanti al Signore, perché Lui mi ha salvato la vita, non ho paura, la mia preoccupazione è che non voglio morire in peccato, se morirò da coronavirus, morirò in Cristo, non nel peccato, non nel maniglio, non nella fornicazione, non stare in un sito guardare poco via via, no, ti rovina la vita, classica letta, ti rovina il cuore, 29 febbraio 2020, Gesù Cristo ti porta a morire, ci sono tante anime, stanno ascoltando il messaggio del Vangelo, alleluia, lo so, hai ragione, ma c'è la perfezione in Cristo, Gesù Cristo è perfetto, non è una religione che vi presento, vi presento l'amore, l'amore della gente, amén, no, no, Moammetho, Moammetho è morto, Moammetho è morto, Krishna è morto, Buddha è morto, no, c'è solo una persona che morì sulla croce per i peccatori, guardi, io per primo, sono un capitano del peccato, ma Gesù Cristo mi ha salvato, Gesù Cristo mi ha liberato, grazie, grazie Padre Eterno, che io oggi ti amo e parlo di te, sono una sentinella e vi sto annunciando la parola dell'Eterno, gloria a Dio, amén.